Musica Abbiamo Lidia De Santis della CSR nel centro stile Prima tappa Grand Prix Master Corsia 5 in base delle schermi Costumone blu Una partenza con una piccola esitazione, quella di Lidia Ma siamo sicuri che verrà fuori già dal secondo 25 Sono le Corsie 2-3-5, quelle alla femminile E Lidia viene subito fuori, infatti viene in testa rispetto alla Corsia 3 Anzi si pareggiano in questo momento Vediamo adesso la virata del 50, quanto fermano il cronometro 40 netti il cronometro e Lidia ha altre esitazioni in uscita dalla virata Adesso si va alla chiusura con questo 50 stile Sulle 4 frazioni da 25 per questa batteria del centro stile Master Leggermente in anticipo la Corsia 3 su Lidia Non sappiamo il nominativo perché hanno cambiato la start list all'ultimo momento Arriva prima Tocca la 5 a 1 1.23 netto Il tempo di istruzione di Lidia era 1.30 Buona prestazione per essere la prima gara Lidia De Santis CSR Catanzaro Stefano